Ma bentornati nell'ultima puntata del 2020 dei Whatsapp Economy Podcast, un format di Wikileaks News. Oggi andiamo a parlare, ai secondi 44, di Bitcoin e del suo nuovo record per quanto riguarda il suo valore, al minuto 5.15 di Istat e demografia del paese Italia, al minuto 10.35 parleremo di pensioni e Covid, al minuto 14.25 parleremo delle sanzioni da parte del Texas su Google e Facebook, al minuto 15.38 parleremo di Commissione Europea, delle nuove regole per quanto riguarda il mondo digitale, al minuto 21.20 parleremo di qualità della vita in base ad ogni provincia, mentre al minuto 23.28 parleremo di Brexit e le conclusioni e i saluti di fine puntata. Buon divertimento! Torniamo a parlare di Bitcoin, infatti l'ho già fatto in un video nel mese di ottobre, ma questa volta, invece di analizzare il contesto in generale riguardo il fenomeno di Bitcoin, parliamo di alcuni aspetti in particolare. Infatti, notizia degli ultimi giorni è il fatto che il Bitcoin è riuscito a superare la fatidica soglia dei 20.000 dollari per ogni Bitcoin, raggiungendo nelle ultime ore il valore di 23.600 dollari. Si tratta di un vero e proprio record per il Bitcoin, in quanto solo tre anni fa ha raggiunto il valore massimo pari a quasi 20.000 dollari, mentre adesso è riuscito a sfondare questa fatidica soglia. Ma perché è avvenuto tutto ciò e perché gli osservatori del Bitcoin prevedono in futuro uno scenario per il Bitcoin molto più roseo rispetto al passato? Beh, sicuramente giocano in questo contesto degli attori molto importanti, tra cui Paypal, che a metà ottobre ha deciso di accettare in futuro i pagamenti tramite Bitcoin. Inoltre, numerosi investitori istituzionali e hedge fund, alcuni anche noti per la loro prudenza, hanno deciso di investire anche loro sul fenomeno Bitcoin. Questo confermerebbe alcuni studi di letteratura che correlavano il valore del Bitcoin alla diffusione di utilizzo della valuta stessa. Quindi man mano che veniva utilizzata sempre di più, diveniva sempre più diffuso il suo utilizzo e man mano il valore del Bitcoin sarebbe dovuto aumentare. Un'ulteriore chiave di lettura deriva dalla svalutazione del dollaro. Infatti si può notare come nell'ultimo periodo il dollaro si stia svalutando, quindi praticamente sta perdendo il proprio valore. Non stiamo parlando di percentuali tragiche, comunque la moneta del dollaro è comunque una valuta abbastanza stabile. Però pian piano, lungo il tempo, sta perdendo un po' del suo valore. Anche nei confronti dell'euro questo sta creando non poche preoccupazioni anche per la BCE. Detto ciò, perché si sta correlando la svalutazione del dollaro con l'aumento del Bitcoin? Se noi siamo degli investitori e abbiamo dei dollari, ma questi dollari si stanno svalutando, significa che il valore della nostra ricchezza sta diminuendo. E quindi per garantire la stabilità del valore della nostra ricchezza andiamo a spostare i nostri capitali dal dollaro al Bitcoin. Questa chiave di lettura confermerebbe quello che avevo analizzato nel video riguardo i Bitcoin. E cioè il fatto che i Bitcoin non sono una vera e propria valuta, una vera e propria moneta, probabilmente non lo saranno mai, ma in realtà stanno sempre più diventando un asset digitale, un oro digitale, una riserva di valore. A questo punto bisogna fare due tipi di analisi, una di breve periodo e una di lungo periodo. Nel breve periodo comunque ci tengo a sottolineare che è confermata la volatilità del Bitcoin, in quanto basti pensare che al primo gennaio del 2020 servivano 7000 dollari per comprare un Bitcoin, mentre ad oggi 18 dicembre servono 23600 dollari per comprare appunto di nuovo un Bitcoin. Questo significa che appunto è confermata una delle caratteristiche principali del Bitcoin e cioè quella della estrema volatilità. E non è escluso che da qui a poche settimane o qualche mese, il valore del Bitcoin tornerà a scendere e a stabilizzarsi a valori molto inferiori rispetto alla soglia di 20.000 dollari. Questo nel breve periodo. Nel lungo periodo però l'analisi è un po' diversa. Infatti abbiamo visto come il contesto intorno al Bitcoin si è cambiato in quanto numerosi player sono entrati nell'ambiente, tra cui anche alcuni importanti come Paypal. Questo può farci indurre al fatto che nel lungo periodo il valore del Bitcoin possa rimanere molto più elevato rispetto al passato, in quanto per l'appunto come abbiamo visto le modalità di utilizzo potrebbero diventare sempre più diffuse. Ciò nonostante comunque se nel lungo periodo c'è una prospettiva di crescita bisogna sempre stare attenti a maneggiare questo tipo di valute in quanto si tratta comunque di asset abbastanza rischiosi a causa della sua volatilità. Quindi c'è un trend di lungo periodo che probabilmente svede il Bitcoin con un valore in crescita, intervallato sempre da brevi periodi in cui il Bitcoin oscillerà nel suo valore. Staremo a vedere in futuro cosa accadrà al Bitcoin e ovviamente noi andremo a monitorarlo e ad analizzarlo come al solito. La notizia successiva è offerta dall'Istat che in questa settimana ha pubblicato il suo studio riguardante il censimento della popolazione. Lo studio praticamente conferma il trend ormai che è iniziato qualche anno fa e cioè che la popolazione italiana sta diventando sempre più vecchia. Se infatti nel 1953 l'età media della popolazione italiana era pari a 35 anni, nel 2019 l'età media è pari a 45 anni, mentre nel 2011, data dell'ultimo censimento della popolazione, l'età media era pari a 43 anni. Un altro indice preoccupante che ci fornisce l'Istat riguarda l'indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più è quella con meno di 15 anni. Infatti se questo rapporto nel 1951 equivaleva al 33%, nel 2019 equivale al 180%. Significa che per ogni 100 abitanti con un'età inferiore ai 15 anni ci sono 180 persone con un'età superiore ai 65 anni. Questo rapporto indice di vecchiaia, quindi questo rapporto tra popolazione anziana e popolazione giovane, nel 2001 equivaleva al 148%, quindi c'è stato un incremento sostanziale di questa statistica. Significa che praticamente l'Istat nel 2050 prevede che per ogni tre cittadini uno avrà almeno 65 anni, dato che ci conferma per l'appunto che la popolazione italiana sta invecchiando in maniera sempre più accentuata. Per risolvere questo problema bisogna attivare una serie di politiche. Innanzitutto quella per le nascite, che richiede numerose politiche attive riguardanti la famiglia. Ne abbiamo discusso anche alcune volte sul profilo Instagram Whatsapp Economy. Ma in realtà queste soluzioni sono per il lungo periodo, infatti se si inizia un'attività corretta di politica per le nascite, iniziasse adesso praticamente, i risultati si avverrebbero praticamente nel giro di qualche anno e successivamente avremmo la popolazione attiva nel mercato del lavoro tra almeno 20 anni. Questo ovviamente sarebbe un problema. Quindi oltre a fare questo tipo di politica che comunque avranno degli impatti nel lungo periodo e che comunque il tasso di fertilità non ritornerà mai a quelli degli anni 50, in quanto siamo in un paese industrializzato e ormai è assodato che i paesi industrializzati hanno dei tassi di fertilità inferiore rispetto al passato. Detto ciò, un'altra politica per risolvere in maniera a breve termine questo problema riguarda l'immigrazione. Per immigrazione non sto semplicemente parlando dell'immigrazione proveniente dall'Africa, ma sto parlando anche di un'altra immigrazione forse anche più importante a livello economico ovviamente, non fraintendetemi, vi prego, e cioè quella di attrarre dei talenti dall'estero, cosa che in realtà noi siamo bravissimi a fare tutto il contrario, cioè quello di far mandare via i giovani dal paese verso altre nazioni. In realtà si dovrebbero attivare tutta una serie di politiche che possano incentivare giovani talenti a venire nel paese e a contribuire alla crescita del paese stesso. Quali sono praticamente i vantaggi rispetto all'immigrazione che proviene da paesi meno sviluppati? Il fatto che abbiamo a disposizione del capitale umano già formato e pronto al lavoro. In più, molto spesso potrebbe venire da contesti sociali molto simili ai nostri e quindi i costi di adattamento dell'individuo al nuovo contesto sociale italiano sarebbero molto inferiori e quindi l'impatto economico sarebbe molto maggiore. Con ciò ovviamente non voglio discriminare tutta l'altra parte di immigrazione a capitale inferiore che è altrettanto importante e che anzi ce lo dice proprio l'Istat, contribuisce a tenere bassa l'età media e a immettere nuova popolazione che senza di loro diminuirebbe ancora di più. Però ovviamente l'immigrazione proveniente da paesi meno sviluppati comporta delle sfide completamente diverse rispetto all'immigrazione a capitale umano maggiore, in quanto provengono da contesti sociali completamente diversi e quindi li devi abituare tramite tutta una serie di politiche al nuovo contesto con le nuove abitudini. Inoltre ci devono essere degli ingenti investimenti in formazione che si vedranno durante un periodo molto più dilatato del tempo rispetto ad esempio a un giovane ragazzo che viene dall'università di Londra a lavorare qui da noi. Quindi diciamo che sono due immigrazioni che comunque possono servire al paese ma con obiettivi politici ed effetti sull'economia completamente diversi e ovviamente bisogna gestire tutto quanto. Sicuramente l'arma principale sarebbe quella di attrarre talenti e magari di smettere di incentivare i ragazzi a emigrare da questo benedetto paese. E' bene specificare comunque che questo fenomeno demografico è un fenomeno comune a più o meno tutto il mondo. Infatti ad esempio anche la Cina nel 2100 avrà una popolazione di molto inferiore rispetto a quella che attualmente. E lo stesso studio che è stato pubblicato su The Lancet prevede che nel 2100 la popolazione italiana sarà di 30 milioni. Quindi questo fenomeno demografico sia a livello di decrescita della popolazione ma sia di invecchiamento della popolazione in quanto le aspettative di vita si allungano sempre di più pone numerosi problemi riguardo le economie di tutto il mondo. Tra questi problemi c'è sicuramente quello della pensione, della previdenza e della sostenibilità dei sistemi pensionistici di tutto il mondo. Ma voi mi potreste dire beh Giorgio a causa del covid molti anziani sono morti e quindi questo dovrebbe dare un minimo di respiro ai sistemi previdenziali. Ora a parte che questa battuta poteva far ridere i primi giorni della pandemia e soprattutto a quelli amanti del black humor tipo me ma che attualmente ormai non fa più ridere anzi abbastanza cringe quando purtroppo alcune persone mi scrivono su Instagram dicendomi questa cosa e sostanzialmente io non li mando a cagare giusto per non essere scortese in quanto di persone scortesi su internet ce ne sono già abbastanza. Ma detto ciò questa battuta non corrisponde neanche alla realtà e per dire per affermare ciò ci aiuta il pension outlook 2020 dell'oxe che è uno studio sui sistemi previdenziali degli paesi più sviluppati al mondo fatto per l'appunto dall'oxe ogni anno che ci dice che per l'appunto il covid 19 ha posto ulteriori pressioni alla sostenibilità del sistema pensionistico oltre al fattore demografico che è un fenomeno di lungo periodo questo per due ordini di ragioni il primo punto riguarda la pandemia e la crisi economica infatti la pandemia ha scaturito una crisi economica che si è riversata anche sul mondo del lavoro riducendo l'occupazione questa riduzione dell'occupazione ha ovviamente anche ridotto i contributi che delle persone che davano al sistema previdenziale e quindi sostanzialmente i contributi dell'inps ovviamente queste diminuzioni di contributi porta una pressione alle casse dell'inps che si vede le proprie entrate diminuire il secondo fenomeno invece è dovuto al fatto delle abitudini di consumo delle persone infatti di nuovo anche qui a causa della crisi le persone hanno ridotto i propri consumi riducendo anche i risparmi che in teoria dovevano andare per quanto riguarda la costruzione di un piano previdenziale in questo caso la priorità è stata data ai bisogni a breve termine come il cibo il mangiare o l'affitto rispetto al benessere di lungo periodo come per l'appunto il fatto di costruirsi una pensione e questo ovviamente questo fatto di sospendere ridurre o posticipare i contributi danno ulteriori pressioni al sistema previdenziale di una nazione quindi no l'idea del fatto che il covid abbia dato un respiro al sistema previdenziale non è assolutamente vera anzi è tutto il contrario a causa del covid sarà sempre più difficile rendere sostenibile il sistema previdenziale e inoltre anche le persone hanno scelto di rinunciare ad una quota futura della propria pensione in quanto dovevano affrontare delle spese imminenti a causa proprio della crisi economica dovuta alla pandemia ma ora passiamo a quei mattacchioni di google e facebook in quanto negli ultimi giorni sono stati accusati dai procuratori generali del texas di azioni anticoncorrenziali una delle principali attività di google è quella di vendere inserzioni pubblicitarie all'interno del proprio motore di ricerca in questo senso i procuratori generali del texas hanno accusato i due colossi dell'internet di aver fatto un accordo dal 2018 che aveva lo scopo di dirottare inserzioni pubblicitarie privilegiando il facebook rispetto alla concorrenza dovete sapere comunque che google non è nuovo a queste accuse anticoncorrenziali infatti qualche mese fa è stata aperta una nuova inchiesta da parte di alcuni stati americani per quanto riguarda alcune attività illecite da parte di google in particolare google secondo l'accusa ha utilizzato la sua rete di contratti e partnership per evitare la distribuzione di alcuni motori di ricerca che sono ovviamente concorrenti rispetto al motore di ricerca proprietario di google ma lo ammetto questa storia tra facebook e google è solo un piccolo antipasto nei confronti della storia che vi andrò a raccontare adesso sto parlando della nuova proposta da parte della commissione europea riguardo delle nuove leggi che dovrebbero regolamentare le attività delle imprese online sto parlando delle proposte che hanno il nome di digital services act e digital market act le due proposte hanno obiettivi differenti infatti la prima riguarda soprattutto la fruizione dei contenuti da parte dei degli utenti la seconda invece riguarda il comportamento delle imprese per quanto riguarda la concorrenza ma andiamo per ordine e analizziamo per prima il digital services act il digital services act ha come obiettivo quello di il digital services act ha come obiettivo quello di evitare la diffusione all'interno delle maggiori piattaforme online quello di contenuti legali come ad esempio violenza sui minori contenuti d'odio o violazioni sul copyright o contenuti che esaltano il terrorismo e inoltre cerca di evitare anche la vendita di prodotti illeciti i fornitori di servizi digitali in base al loro ruolo e alla loro dimensione dovranno attenersi a numerose norme che vanno dal avere una comunicazione più approfondita con le autorità competenti e cercare di avere una comunicazione riguardo i dati interni alle società a fino ad addirittura arrivare a nominare un revisore esterno che possa rispettare la verifica dei regolamenti in tutto ciò ci sono anche delle multe molto salate per chi non rispetta queste normative che vanno fino al 6 per cento dei ricavi mondiali dell'impresa se appunto questa impresa viola le regole e non agisce nella rimozione dei contenuti legali e nella salvaguardia dell'utente nella fruizione dei contenuti messi a disposizione il digital markets act invece riguarda la concorrenza tra le imprese infatti la commissione ha sottolineato come è vero molte di queste imprese operanti nel digitale hanno dato numerosi benefici alla popolazione europea e alla crescita economica europea neanche vero che man mano che queste imprese sono cresciute sono aumentati anche numerosi comportamenti che hanno impedito la concorrenza e quindi secondo la commissione hanno diciamo oppresso il potere innovativo dei delle imprese più piccole che ovviamente molto spesso devono sottostare a degli regolamenti imposti non dagli stati bensì da questi grandi multinazionali che praticamente hanno molto spesso il monopolio di determinate sezioni del mondo digitale in questo senso il problema che ha riscontrato la commissione europea è quello che le regole che vengono applicate a queste nazioni queste multinazionali sono delle regole ex post l'abbiamo visto anche ad esempio per quanto riguarda il tema dell'illusione fiscale molto spesso le multinazionali compiono degli atti illegali la commissione accusa queste multinazionali di condurre degli atteggiamenti anticoncorrenziali ovviamente a discapito dei competitor più piccoli da qui si apre una epopea legale dove fanno parte anche i ricorsi e contro i ricorsi che rendono la giustizia lenta e anche incerta riguardo il risultato finale dell'accusa e quindi sostanzialmente la commissione europea da ciò propone delle regole non più ex post che hanno per l'appunto questi problemi bensì delle regole ex ante in modo tale da controllare a monte l'attività delle multinazionali in modo da evitare appunto i problemi derivanti da delle regolamentazioni ex post queste regolamentazioni appunto impediscono alle multinazionali di preservare la loro posizione di monopolio e quindi cercare di stimolare l'innovazione anche proveniente dai piccoli competitor che molto spesso devono sottostare alle regole non più dello stato bensì delle multinazionali stesse che hanno una posizione dominante all'interno del mercato per quanto riguarda invece le sanzioni arrivano addirittura a delle sanzioni una tantum pari al 10 per cento del fatturato mondiale dell'azienda oppure a multe periodiche corrispondenti al 5 per cento delle entrate giornaliere secondo la commissione europea queste nuove regole dovrebbero incentivare l'innovazione all'interno del mercato digitale e rendere il mercato molto più equo e giusto al contrario le multinazionali hanno come argomentazione per difendere la loro posizione il fatto che secondo loro questi regolamenti incentiverebbero una diminuzione degli investimenti in ricerca e sviluppo che ovviamente potrebbero dare luogo a ulteriori innovazioni che potrebbero beneficiare la popolazione stessa comunque questa si tratta di proposte da parte della commissione europea che se tutto andrà bene non vedremo prima del 2023 e ci dovrà essere anche l'approvazione da parte del parlamento europeo e dei singoli stati europei quindi ci sarà ancora tanto da discutere e vedremo come si evolverà la situazione questa settimana il sole 24 ore ha pubblicato anche la classifica riguardante la qualità della vita provincia per provincia questa classifica a frequenza annuale e quest'anno ovviamente è stata fortemente influenzata dalla pandemia e dal covid 19 in prima posizione vediamo bologna che ha secondo il sole 24 ore negli standard di vita della qualità della vita maggiore rispetto a tutte le altre province italiane per costruire questa statistica il sole 24 ore prende in considerazione diversi indici tra cui ricchezza e consumi affari e lavoro ambiente e servizi demografia e salute giustizia e sicurezza cultura e tempo libero questi sono i sei indici che solitamente il sole 24 ore usa per stilare questa classifica sulla qualità della vita però ovviamente come abbiamo detto all'interno di questa classifica un nuovo indice è stato costruito per rendere più veritiera la classifica che ovviamente ha come oggetto il covid e come le province hanno reagito alla pandemia dovuta al coronavirus in questo caso come abbiamo detto il vincitore è stata la provincia di bologna però diciamo che tranne alcuni scostamenti dovuti appunto alla pandemia e quindi alcune province fortemente basate su ad esempio il turismo o altri settori fortemente colpiti dal covid hanno subito una leggera flessione quindi sono scalate all'interno della classifica nonostante ciò comunque la classifica risulta più o meno uguale rispetto a tutti gli altri anni e quindi sostanzialmente al nord si vive meglio rispetto che al sud non solo per quanto riguarda gli indici sul lavoro o sulla o sui servizi ma anche per quanto riguarda la giustizia la sicurezza o la cultura del tempo libero mediamente le province del nord sono molto più sviluppate quindi riescono a fornire cittadini una qualità della vita molto superiore rispetto a quelle del sud che purtroppo come sappiamo hanno dei problemi strutturali da molto tempo e molto probabilmente non sarà il staff working di cui abbiamo parlato anche in un vecchio video a ribaltare questa classifica che ogni anno in solo 24 ore ci dà a disposizione quest'ultima puntata del podcast di whatsapp economy del 2020 che poi in realtà sarebbe anche la terza volevo concluderla parlando di brexit come vi dicevo nella scorsa puntata il termine ultimo era stato posto a domenica scorsa però domenica vedendo che il tentativo di accordo era abbastanza complicato si è posticipato quest'ultimatum a questa domenica ultimatum che è stato reso praticamente definitivo da parte del parlamento europeo che ha avvisato gli interlocutori dell'europa della gran bretagna il fatto che se si superasse domenica per quanto riguarda l'accordo il parlamento europeo poi non riuscirebbe a ratificare questo accordo prima della fine del 2020 al momento in cui la brexit avverrà con effetto immediato purtroppo anche qui ci sono stati dei passi avanti in realtà per quanto riguarda ad esempio la concorrenza delle imprese soprattutto per quanto riguarda gli aiuti di stato da parte del del governo del regno unito per le imprese britanniche anche se rimangono ancora rimane ancora un accordo da fare riguardo l'accesso alle acque britanniche da parte dei pescatori europei in questo senso le trattative sono ancora in corso e si spera che le entrambe le parti riusciranno a trovare un accordo entro domenica se non succederà ciò probabilmente ci sarà un hard brexit con tutta una serie di conseguenze economiche e sociali di non poco conto che magari andremo ad analizzare poi l'anno prossimo fatto sta che comunque basti sapere che già da adesso le strade inglesi che collegano l'inghilterra con l'europa sono già piene di tir proprio perché c'è un certo paura di rimanere senza beni di prima necessità e scorte essenziali vedremo come andrà a finire per il momento vi saluto vi auguro delle buone feste del buon capodanno da parte di whatsapp economy podcast con un pizzico di burnout sinceramente sto forse raggiungendo il limite quindi non so se questa puntata vi sarà piaciuta ed è all'altezza spero di sì ma non credo spero che queste vacanze mi daranno un po di riposo e quindi un po di energia per affrontare al meglio l'anno prossimo se non vi state di vostro gradimento vi chiedo scusa saprò fare di meglio prossimamente io sto con veramente non lo so vabbè before burnout in common spero spero di no detto ciò ringrazio gli abbonati e ci vediamo con i prossimi video comunque durante le vacanze whatsapp economy non vi lascerà ci saranno tante novità che vedrete in futuro detto ciò alla prossima e grazie per l'attenzione ciao